cari amiche ed amici hello to everybody there is the ladies and gentlemen salve a tutte e tutti voi i wish you to have a good happy prosperous new year 2019 vi auguro a tutte e tutti voi che mi seguite più numerosi in instagram che non in youtube di avere un felice anno nuovo 2019 e io faccio questa diretta in instagram perché non fate tante di dirette in youtube ma voglio cambiare voglio cambiare perché ciò più successo come instagrammer e poi come al solito c'è il disordine ma non vado a giustare tanto mai molto fatto molte dirette con il pigiama nella porta fanno circa 11 gradi quindi fa freddo insomma non si può accendere la caldaia ogni giorno mi prenderò un tempo sabatico perché voglio rialacciarmi ai miei hobby che sono soprattutto la lettura e poi devo fare attività fisica vediamo dove guardare qua dice che stiamo informando i tuoi followers che ha iniziato un live stiamo invitando altri invitano persone a guardare il live io avevo scelto un effetto speciale ma non me lo ha preso come mai ecco qua l'effetto speciale funziona soltanto con la camera principale che quella in questo caso che sta nel retro del cellulare non posso utilizzare per fare il live l'effetto speciale quindi come dire ciò più di 40 amici che stanno online adesso ma nessuno che che ha recepito che io sto facendo il live ciò persone contatti da tutte le parti del mondo evidentemente non molti di loro parlano in italiano allora dicevo prenderò un periodo di riposo un periodo sabatico nel quale mi dedicherò altri interessi e naturalmente non sentiate che io vi voglio abbandonare care amiche ed amici che mi seguite in youtube e quindi sin da adesso sin da ora da qui di vi auguro un felice anno nuovo oggi che è 29 sabato 29 dicembre e mi raccomando se qualcuno di voi mi segue anche in youtube di dire agli amici e alle amiche che mi seguono youtube che io qua gli sto mandando i miei saluti poi non so se si potrà trasmettere il live in instagram in youtube però io ho intenzione un po di riprendere una pausa di riflessione già in questi sei anni quasi di youtube perché il mio canale era aperto il 7 febbraio 2013 l'attuale canale non ho avuti altri passato ho preso delle pause e nessuno se ne accorto e adesso sono intenzionato a rinfrescare un po il canale non per delle finalità pratiche ma perché sento di avere la nuova ispirazione e vediamo quello che posso iniziare a fare intanto superato quota 900 video sono arrivato a più di 900 di 590 mila riproduzioni del canale e quindi ho più di mille iscritti non vorrei perdere tutte queste cose certo mi piacerebbe recuperare la monetizzazione non vi nascondo mi piacerebbe guadagnare con youtube ma ho altri impegni a cui dare la priorità impegni che mi porteranno forse a rinverdire la mia produzione youtube angela e speranto a anni anghele e speranto saluto alvin è un mio amico sperantista che saluto che saluto filo sto a 77 saluto saluto alvin filo sto a 77 e perché io ho caricato delle foto sull'umbanda in banda c'è una segnalazione vabbè ogni tanto il cellulare mi fa delle segnalazioni dare allora cari amiche ed amici i wish to you to have a new happy and prosperous a happy and prosperous new year 2019 and for a moment i suspend to do everything beh ci vediamo in un'altra volta comunque buon anno nuovo a tutte e tutti e buon anno nuovo arrivederci grazie